Questo video riguarda i migliori trebbiotrituratori. Il vincitore della qualità è l'HEC389C. Il frantumatore a benzina HEC6421 sminuzza rami e legno fino a 89 mm di spessore, rendendolo ideale per il tuo giardino. Il motore a quattro tempi del trituratore a benzina da giardino ha una cilindrata di 389,3 cm. Il motore viene avviato tramite un avviamento a strappo. Rami e arbusti possono essere facilmente spinti nel trituratore attraverso le varie aperture di riempimento. L'attrezzo risulta molto stabile grazie alle due ruote di trasporto piene d'aria e al robusto cavalletto in profili di acciaio piatto. Il peso del trituratore da giardino è di 100 kg tuttavia il trasporto con ruote gommate piene d'aria è facilmente possibile. Opzionalmente, il trituratore può essere spinto o fissato a un veicolo trainante tramite il timone. Big trituratore a benzina potente motore a quattro tempi schiacciarami e legno fino a 89 mm di spessore tamburo flail con coltelli taglienti telaio robusto con pneumatici pieni d'aria varie aperture di riempimento pull starter stallone stabile dotato di timone e funzionamento confortevoli. Puoi trovare il miglior prezzo direttamente sotto la descrizione del video. L'alternativa è il Garland biotrituratore. Trita grandi quantità di foglie, rami e persino piccoli tronchi. Niente si resiste al suo motore quattro tempi Garland da 196 cm cubi OHV, i suoi 16 martelli galleggianti e le sue lame che si muovono ad alte velocità. La biotrituratrice Ciper 790 QG V19 è molto versatile e include sia un trampolino per inserire foglie, piccoli rami e rifiuti fino a un centimetro, come una bocchetta per rami e tronchi di 7,6 cm. Efficiente movimento delle lame ad alta velocità Minimo volume dei rifiuti 16 martelli galleggianti, martellano e triturano i residui di potatura Ideale per grandi quantità di materiale Il vincitore del premio è il Generic Biotrituratore Biotrituratore è dotato di 8 lame in acciaio ad alta durezza, il massimo diametro di taglio è di 45 mm Riduttore epicicloidale in metallo e motore silenzioso Decelerazione e assorbimento degli urti Il rumore è inferiore a 90 dB durante il funzionamento 2800 W motore brushless silenzioso ad induzione in rame puro Velocità della lama 40 RPM 55L grande capacità scatola di raccolta e il corpo sono realizzati in polipropilene resistente all'usura Resistente e durevole Il design anti-intasamento e reversibile della lama riduce il problema di inceppamento Punto il diametro di taglio può essere regolato dalla manopola di regolazione della lama Dotato di ruote per il trasporto ausiliario, facile da spostare Viene con una molla, ti aiuta a spingere i rami all'interno del trituratore Se il video vi è piaciuto, saremmo lieti di ricevere un mi piace e un commento